Ciao a tutti ragazzi, sono l'unico e solo e oggi mi sono lavato i capelli Cazzo, mi sono ancora asciugati del tutto Diciamo che stare in questo ambiente con i capelli bagnati, non è al massimo Bene, siamo tornati su un nuovo gioco, The Archers Perché poi l'obiettivo di questo gioco è uccidere più persone possibili E' un gioco per telefono, quindi potete usarlo tranquillamente anche voi Anche perché sennò non riuscirei probabilmente a inquadrare tutte queste cose così velocemente Se non fosse un gioco per telefono E niente, iniziamo Io gioco con un armo che dà protezione da tre frecce e un arco infocato Il che serve un po' a... Careva non l'ho preso, non ammazza, bene In poche parole se si tiene premuto, aspettate un attimo che lo faccio vedere Se faccio così e tengo premuto Esatto Spara tre frecce infocate Tipo così Il problema è che sta lagando un botto perché ovviamente il programma di registrazione non può non romper i coglioni Muori stronzo E niente, nel frattempo che uccido un po' di gente Vi anticipo che all'agosto ci saranno un po' di collaborazioni, un po' di cose fighe che farò E niente, voglio rendervene consapevoli perché ci tengo che ovviamente essendo il mio pubblico Sappiate le cose che farò ad agosto Cioè in realtà non sapete un cazzo Allora, vi anticipo soltanto che ci sarà un film Che sarà interamente fatto con Minecraft Ovviamente non ve ne spoilerò la storia perché sennò sarebbe troppo semplice E poi ci sarà un altro video ancora più figo in collaborazione con altre persone Che però non vi posso spiegare perché la facciamo, cosa facciamo e dove lo facciamo Cosa facciamo E niente E poi il resto si vedrà più avanti Sicuramente Cioè già questi sono due eventi ipocali Secondo me Saranno fighi Poi il terzo, se vedremo se ci sarà un terzo Comunque troppa roba tutta insieme ad agosto Poi potremo poter impazzirci Specialmente perché per fare dei video del genere ci serve un sacco di lavoro Vabbè 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 è morto No, 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 non mi toccare, non mi toccare Rave, muoio anche tu, Valedetto, infame Oh, headshot Questo brucia Brucia stronzo No, 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 no Moro Perso E vabbè Che mi è passata un'altra tipo qua Così penso che si veda anche nel video perché mi è passata dal naso E niente Come al solito Se vi è piaciuto lasciate un commento e mi piace Mi guardo attorno per evitare di sembrare un pazzo che parla da solo davanti al telefono Come al solito se vi è piaciuto lasciate un commento e mi piace E andatemi a seguire sui vari social che come in ogni video trovate nella descrizione E noi ci vediamo nel prossimo video Ciao a tutti